Buongiorno, orchidee di Monosola, orchidee a medicina per l'anima, vi ricordo i libri, orchidee storie e personaggi, ormai li conoscete, sapete tutto, e questo qui è orchidee a medicina per l'anima, questo qui è il numero 4 di una piccola collana di orchidee che si chiama orchidee a medicina per l'anima appunto. Questo qui è tutto sulle orchidee, tutto il mondo delle orchidee, cosa sono, dove vengono, come si coltivano, come si taglia il ramo sfiorito, il rinvaso, tutto quanto, la concimazione, la luce, l'umidità e tante altre cose, mentre questo qui invece no, questo non parla delle orchidee, della coltivazione così, ma di cosa ci danno le orchidee, che è una cosa importantissima. Secondo me questo libro, tutti quelli che ho letto mi hanno scritto che è veramente emozionante, perché tra l'altro la maggior parte del libro l'avete scritto voi, sono i vostri commenti, adesso è un po' di tempo che su Facebook metto su i commenti più belli, ne pubblico uno al giorno di questi commenti qua, perché ce n'è un sacco, gli altri, se volete mandatemi voi dei commenti, l'ultimo che ho messo ieri è bellissimo, quello di Chiara di Vicenza, che ha scritto, io quando sto con il mio accademia mi resta sereno e la mia serenità si trasmette che mi sta vicino, bellissimo, ma ce ne tanti bellissimi, vabbè, andiamo avanti con le falenopsis allora, come abbiamo detto, le falenopsis vivono in zone tropicali del mare o quasi, per cui sono piante da caldo, soffrono di freddo, poche specie di falenopsis sono da freddo, la maggior parte sono da caldo, ci sono alcune falenopsis come la falenopsis, non mi ricordo più, che vive nelle montagne delle Filippine, quella che vive più in alto di tutti e perde anche le foglie d'inverno e poi le ripa in primavera. Allora, è una pianta da caldo, l'ideale è avere 20-22 gradi di notte, è proprio una pianta da caldo caldo, come stiamo bene noi nelle spiagge quando andate in Thailandia o i Caraibi, così, ecco, è una pianta così. Ah, prima di tutto loro sono distribuite tutto a sud-est asiatico, dall'India orientale fino alle Filippine, fino adesso la sederia japonica è diventata falenopsis, per cui anche fino a Giappone, e a sud fino all'Australia. Ce n'è adesso, perché prima erano una sessantina di specie, adesso con la rivoluzione che hanno fatto, adesso perché prima venivano classificate l'orchide ecosistema dell'inneo, adesso negli ultimi anni così si classificano con il DNA, cioè con le affinità genetiche e allora, adesso le falenopsis sono diventate una sessantina di specie perché sono state introdotte tante altre piante, come per esempio la sederia japonica che viene dal Giappone e dalla Corea, e vabbè, comunque sono diffusi tutto a sud-est asiatico e ce n'è appunto parecchie specie. La specie tipo è questa qui, la falenopsis, che è anche la più diffusa, perché c'è l'India orientale, tutto l'esilo del cielo indiano fino appunto all'Australia, curiosamente non c'è nelle Filippine, c'è dappertutto parecchie nelle Filippine. Le Filippine sono il centro di diffusione delle falenopsis, la maggior parte delle specie viene dalle Filippine, però la specie tipo la falenopsis non c'è nelle Filippine. Allora, come dicevo, sono piante da caldo. C'è un'altra cosa da dire, che soffrono moltissimo gli spifferi. D'inverno, se aprite le finestre, magari in casa fa caldo e fuori è freddo, se l'aria è freddo e investe le falenopsis, quella lì è micidiale, c'era un bellissimo articolo sulla rivista americana delle orchidee di almeno 30-40 anni fa, c'era ancora Populin prima che si andasse in Costa Rica, che abitava qui abbastanza vicino ogni tanto da qui, allora mi traduceva gli articoli più belli. C'era appunto sulla OS un articolo geniale che diceva che ci sono certi signori che vivono in case caldissime e quando si alza la mattina spalanca le finestre per cambiare l'aria, magari con fuori sotto zero. Allora, questo articolo qua diceva che se questo signore voglio sapere se va bene per la falenopsis, dovrebbero anche loro mettersi lì nude come le falenopsis, allora capiscono subito se va bene o no, ed è così. Provate voi, se andate là con la pelliccia così, non me ne accorgete, ma provate ad andare là nudi vicino alle falenopsis quando aprite le finestre così e vedete cosa pensano le falenopsis di questa situazione qua. Collassano, eh? Un'altra cosa importante, quando si bagna in inverno bisogna bagnare con l'acqua tiepida. L'ideale sarebbe tra 30 e 35 gradi. Non bisogna bagnare con l'acqua a temperatura ambiente. Come diceva l'articolo dell'OS, provate voi a fare la doccia con l'acqua a temperatura ambiente e vedete perché non va bene. La maggior parte delle orchidee che muore in case muore per troppa acqua. Le falenopsis sono di queste. Allora, quando bagnate le falenopsis, dovete essere sicuri che prima sono asciutte. Perché se le bagnate che non sono ancora asciugate, marciscono velocemente. Loro hanno radici epipite, che vuol dire radici ere, perché vivono appena dagli alberi, le radici all'aria. E le loro radici devono asciugare bene tra una maniatura e l'altra. Nelle zone tropicali, quando ci sono i mossoni, arriva un sacco d'acqua che le bagnano così, no? Però c'è anche molta aria, si asciugano molto velocemente. Se le radici non ha il tempo di asciugare, marcisce. Per cui, la regola è, il modo più pratico per capire quando è asciutto è sentire il peso del vaso. La regola è, se il vaso è leggero si bagna, se non è leggero non si bagna, se non si è sicuro non si bagna. Poi quando si bagna, si bagna bene, finché il vaso diventa pesante. Se mettete il sottovaso, tenete il vaso sollevato, tutti i basi hanno dei piedini, però per sicurezza mettete del ghiaietto, della giro espansa nel sottovaso, in modo che il vaso non tocchi l'eventuale acqua che si ferma nel sottovaso. Perché, appunto, se le radici non hanno il tempo di asciugare tra l'abbaglietto e l'altra, marciscono. La maggior parte delle orchidee che muore in casa morano perché sta ragione. Domani facciamo un altro video. 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 Domani facciamo un altro video.